E' un periodo di assestamento con il lavoro, poi per quello che è stata la conclusione del nostro campionato mi sono preso un po' una pausa di riflessione per così dire e diciamo che oggi c'è un pochino da parlare riguardo a alcune questioni non tanto per quello che è stato il campionato appena concluso si del piace quanto del futuro di questo canale e vi parlo molto sinceramente e spero che possiate capire quella che è la mia decisione premesso che non voglio assolutamente chiuderlo, anzi ma ci saranno alcuni accorgimenti perché personalmente per quanto mi riguarda io sono in generale, come magari qualcuno di voi saprà sono appassionato di calcio un po' in generale seguo non solamente il Piacenza, che è la mia squadra del cuore ma anche la Fiorentina in Serie A mi piace anche seguire ogni tanto anche la Serie B seguo comunque naturalmente anche la Serie A mi piace quindi in generale poi vabbè guardo anche le partite nazionali per quanto possibile quindi in generale mi piace a livello diciamo a livello generale seguire un po' il mondo del calcio ogni tanto guardo anche qualcosina di qualche altro sport ma in maniera molto sporadica e comunque molto approssimativa quindi non mi ritengo certo un esperto qualcuno di voi saprà che io ho anche un secondo canale chiamato Il Piacentin Sportivo è un canale nel quale ho parlato solamente di Fiorentina qualche volta facevo anche qualche video più inerente qualche riassunto diciamo della Serie A e della Serie B insomma quello che vi voglio dire è che sto pensando e lo farò di davvero di cambiare il nome di questo canale di tramutare questo canale cambiare la denominazione anche se il saluto diciamo introduttivo rimarrà sempre quello cambiarlo appunto nel Piacentin Sportivo e quindi far diventare questo canale l'unico vero canale mio nel quale parlo un po' ripeto a tutto tondo di calcio quindi di Piacenza di Fiorentina di Serie A della Nazionale qualche volta anche della Serie B quindi cercare di portare quella che è la mia passione allargarlo un pochino più a 360 gradi come dicevo questo sicuramente comporterà un'attività un po' più assidua ed è forse uno dei motivi se non il motivo principale per il quale lo voglio fare ma anche perché anche questa questa continua divisione delle energie tra un canale e l'altro mi ha sempre dato personalmente molto fastidio so che la maggior parte di quelli che mi seguono mi seguono per quello che ho fatto di cui non è che mi voglio prendere chissà quale merito ma per quello che è stato il mio lavoro da commentatore diciamo del Piacenza in questi quasi due anni ma e quindi magari qualcuno potrebbe un po' storcere il naso ma insomma detto in maniera molto franca vabbè il canale l'ho creato io non non mi soffermo solamente a seguire il il piace che lo seguirò purtroppo in capo al mondo e questo comporterà tante sofferenze come abbiamo visto anche quest'anno però come dicevo mi piace il calcio in generale non sono un particolare amante diciamo di altri campionati però per quanto riguarda la nostra bellissima nazione io seguo un po' un po' tutto ecco quindi volevo anche rinnovare il canale anche per magari se ci fosse la possibilità anche farmi conoscere maggiormente anche all'esterno della nostra città magari qualcuno che come è già capitato che qualche iscritto magari venga da altre da altre parti da altre città e questo mi fa molto piacere vorrei peraltro dare un'impronta un po' più come dice il nome stesso del mio secondo canale sportiva a quelle che sono le mie analisi senza farmi prendere troppo dalla così dall'istinto che quando vado allo stadio a vedere il piace mi prende molto e quindi cercare di fare delle analisi pur con un tema cioè pur comunque generalmente composte ecco però soprattutto analizzare il calcio tutto tondo che è quello che mi ha sempre appassionato fin da quando ho seguito ho cominciato a seguire il calcio in maniera attiva quindi questo è un video diciamo più di per chiarire quella che è la situazione quello che è il futuro del canale che cambierà nome nei prossimi giorni magari anche già partire da oggi questo non è come quindi lo ribadisco non è un non è un volere neanche snaturare quella che è la camera bianco rossa che perché è il nome che mi sono fatto ma è un è un volere proprio allargare gli orizzonti e cercare di appunto di farmi conoscere anche al di là di quello che è il mio mero ruolo di commentatore delle partite del piace peraltro vi lascerò qua sotto in descrizione giusto per non perdere tutti i fili il alcune informazioni relative a quello che è un un libro diciamo che riassume tutti quelli che sono stati quella che è stata la nascita del diciamo del commentario su youtube del piacenza calcio di quest'anno quindi una raccolta un libro ecco che potrete avere fino ad un ad un certo prezzo fino ancora per qualche giorno un libro dove appunto troverete diverse diversi capitoli da quelli che sono appunto l'esperienza di tutti i vari telecronisti che si sono avvicendati nel commentario su youtube di quest'anno del piacenza calcio io lo comprerò quindi vi lascerò qua sotto insomma un po' le informazioni per se volete se vi va di reperire un po' questo libro che sicuramente potrà essere potrà darvi qualche chicca in più e potrà farvi sicuramente piacere ecco sicuramente anche gli autori farà molto piacere quindi anche questo è un modo anche per per valorizzare quelle che sono state le esperienze e i contributi da parte di questi ragazzi qualcuno un po' più un po' più attempato ma sicuramente super appassionati del piace quindi vi lascerò anche le informazioni qua sotto nella descrizione del video quindi detto ciò ci sentiamo molto presto sicuramente nei prossimi giorni anche perché tra qualche giorno ci sarà l'esordio della nazionale negli europei che sarà anche lì faremo un po' di commentario ci sentiamo molto presto sempre forza piace viva il calcio e ci sentiamo per la normale programmazione del canale buona serata a tutti